Ambiente in città, prospettive per il futuro di Battipaia. E questo è il tema del convegno organizzato da Lega Ambiente, dal Presidente Alfredo Napoli. In questo momento stiamo ascoltando l'Avvocato Italo Carbone, che sta facendo un escursus sulla situazione giuniziaria riguardando i miasmi del compostaggio di Eboli. All'incontro sono intervenuti il Presidente nazionale di Lega Ambiente, il Presidente regionale e l'assessore Vincenzo Occhiera al comune di Battipaia. La situazione di Battipaia è quella che è, lei eredita una situazione a dir poco strana. Certamente non le possiamo imputare nulla, né possiamo chiedere la luna in questo momento. Ma come si sta incominciando a muovere sul territorio? Sì, come ha detto lei, la situazione certamente non è rosa. Ci sono problematiche di varia natura che ricoprono un po' tutti gli aspetti ambientali, dall'inquinamento acustico al problema della depurazione, agli aspetti della raccolta differenziata e via via. Insomma, ce ne sarebbe tantissimi da elencare. Come mi sto muovendo? Questo primo mese di attività ho applicato il metodo scientifico, cioè quello di valutare tutti gli aspetti, i dati e gli aspetti ambientali. E quindi sto redigendo un mio particolare rapporto, che poi presenterò a giorni al Consiglio in modo tale da poter condividere almeno con i consiglieri di maggioranza e poi eventualmente anche con quelli di opposizione. Perché ovviamente, essendo un tecnico, la mia figura vuole essere un po' anche super partes. e questo per consentire che Battipaglia, insomma, in qualche modo abbia un'evoluzione positiva sotto l'aspetto ambientale è fondamentale il coinvolgimento di tutti i cittadini, di tutte le parti, di tutte le associazioni. Quindi questa prima fase l'ho dedicata all'ascolto, all'ascolto dei problemi. Ho già delle idee che, come dicevo prima, chiarirò ai consiglieri e poi con l'anno nuovo avvieremo tutte le attività che immagino di mettere in campo. Insomma, spero in tempi non strettissimi, ma in tempi medi, di dare una svolta. Insomma. Grazie. 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 Grazie.